In occasione della giornata internazionale dei riti dell'infanzia e adolescenza approvata dall'ONU nel 1989, trattato poi ratificato, come sappiamo uno dei trattati più ratificati in tutti i paesi del mondo, il comune di Edice inaugura l'asilo nido, perché prima in questi locali che sono assolutamente accoglienti, a norma, con tutti i requisiti per poter ospitare bambini così piccoli, c'era una sezione della primavera. Adesso invece inauguriamo un percorso che prevede l'ingresso dei bambini da 0 a 3 anni, così come sarà realizzato in Contrada Pegno, un altro asilo nido. Naturalmente abbiamo approfittato, assieme all'assessore delle donne, di questa giornata per promuovere il benessere del bambino, che tra l'altro è uno dei diritti contenuti nella Convenzione. Promuovere i diritti del bambino sicuramente per contrastare la marginalità, le discriminazioni e quant'altro. Sicuramente per concentrarsi sull'educazione, che è uno dei pilastri più importanti della Convenzione. Quindi educare bambini, sì dalla più tenera età, anche perché l'asilo nido svolge sicuramente una funzione sociale, perché viene incolta l'esigenza delle famiglie, ma fondamentalmente è proprio un servizio educativo, perché incide su quello che è il benessere psicomotorio dei nostri bambini e delle nostre bambine. Tra l'altro il Comune di Erice aderisce all'iniziativa promossa da Unicef e Anci, quest'anno dedicato idealmente alla pace, Go Blue. Noi illumineremo di blu la nostra fontana che è vestita sul lungomare, proprio per dedicare anche questa giornata a tutte le bambine vittime della guerra. La legge di bilancio 2021, la legge 234, ha dato ai Comuni la possibilità di potenziare gli asili che erano già preesistenti. Noi qui a Erice avevamo già l'asilo Primavera, che però offriva un servizio dai 18 ai 36 mesi. Dopo la legge di bilancio del 2021, successivamente con l'approvazione del nostro bilancio, il 30 di dicembre del 2022, abbiamo come giunta municipale approvato lo spostamento di queste somme e quindi programmato la spesa. Da lì un avviso pubblico e naturalmente abbiamo trovato una cooperativa che è davvero, penso, stia facendo un buon lavoro. Le famiglie sono contente e d'altronde il lavoro nostro come amministrazione comunale deve essere quello di dare un servizio a tutte le famiglie. Si tratta di un servizio dato a 30 bambini. La prima fascia è quella dei lattanti, dai 3 ai 12 mesi, poi c'è la fascia dei semi di vezzi, dai 12 ai 18 mesi e poi quella dell'ultima fascia fino a 3 anni. È un servizio importante perché oltre al lavoro in collaborazione con le famiglie, con una equip strutturata, c'è anche un servizio che viene dato anche come struttura. È una struttura molto accogliente, una struttura nuova che noi abbiamo cercato di rendere fruibile anche come spazi aperti. Qui c'è un parco giochi, i bambini possono utilizzarlo e quindi possono rendere le ore del servizio educativo sempre più qualitativo.